Aiutare e vedere un bambino che sta bene, un nucleo familiare che finalmente torna ad essere sereno, mi fa andare a casa con estrema gioia. Quindi diciamo che la mia specializzazione nasce proprio dal mio voler aiutare il più possibile le persone. Allegra Bonizzoni, osteopata nata a Tirano 25 anni fa, racconta la sua passione per lo studio, l'amore per il suo lavoro e in particolare il forte legame con la sua terra, che l'ha spinta a rimanere in provincia di Sondrio. Una giovane donna determinata e intraprendente, con il sorriso sulle labbra, la dote innata di entrare in empatia con chiunque le stia di fronte, ma soprattutto una professionista che crede nelle potenzialità di questo territorio. Io ho deciso di rimanere in Valtellina perché in realtà per me Valtellina è casa, è il posto in cui sono nata, è il posto in cui sono cresciuta. Penso che spesso e volte sia facile andarsi perché di base si possono avere più possibilità, ci possono essere più esperienze. E invece io volevo dimostrare che non per forza, per fare carriera, bisogna scappare dalla Valtellina. In realtà la valle è un bellissimo posto e secondo me ci sono tante possibilità anche per noi giovani. Basta impegnarsi e fare anche tanti sacrifici perché di base diciamo che è una vita molto movimentata. Lei è laureata, una laurea magistrale, ha una specializzazione in lingue, è docente, lavora ed è impegnata anche in un master. Sì, sì perché sto svolgendo il master appunto in osteopatia pediatrica e diciamo che durante il mio percorso di studio ho sempre cercato di non accontentarmi. Diciamo che ho sete di sapienza, se così si può definire e quindi ho cercato sempre di fare più cose possibili. Se si guarda indietro ha fatto le scelte giuste? Tornando indietro è fare questa scelta mille volte perché per me non c'è soddisfazione più grande che arrivare a casa sapendo di aver migliorato la qualità di vita. E soprattutto io ho la fortuna di dire che faccio un lavoro che per me prima che resta in lavoro è una vera e propria passione.